Ciao a tutti, stiamo imparando come sviluppare la nostra forza fascinante in ogni situazione. Ma per iniziare a imparare come sviluppare i nostri gai, possiamo anche in un ambiente molto semplice, con un animale, con un uomo. Il uomo. Bisogna imparare a guardare il uomo senza smincare. Per farlo, bisogna andare in fronte del mirro e guardare a te stesso, fare qualche esercizio. Parliamo di questo esercizio in altri video. Ma quando hai sviluppato questo uomo, puoi iniziare a osservare un animale, il uomo, per esempio. E tu osservi il uomo senza smincare, con un positivo. E' molto importante che tu abbia un stato positivo, perché gli animali possono capire il tuo uomo, quello che pensi. Quindi tu osservi il uomo e vedrai diversi stazioni. Il primo è diventato per farlo, molto tempo. Poi, 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 poi. Che probabilmente può fermare il uomo Questo è un esempio semplice per quanto utilizza la raguja, l'operazione dell'向ia. Unalares ist Bash-Uso, quando hai un piccolo uomo. ди sul visionario, guardate l'esercizio, guardate i testi, guardate l'esene, ci aiutiamo a creare una stazione magnetica, una stazione hipnotica, possiamo creare una stazione hipnotica anche con animali. Il mio Mastro Virgilio, che mi ha fatto fascinazione, era potuto creare con molti animali, iniziando con i bambini. E in qualche modo è un buon esercizio prima di lavorare con persone, perché persone hanno psicologia, animali non hanno psicologia. E hanno la reale, normale, animale, primitiva reazione, che è anche nella humanità. Poi, devi esercizio i bambini, i bambini sono un vantaggio definitivo in ogni conversazione, in ogni situazione. E ora, vediamoci per altre buone idee nel prossimo video. Grazie! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!